Il Recovery Fund è uno strumento doveroso e urgente in questo momento, sono le parole di Angela Merkel al Bundestag in vista della presidenza tedesca a capo dell'Unione Europea il primo luglio. Solo così si potranno garantire convergenza, competitività e coesione nel lungo periodo. Non dobbiamo permettere che la pandemia crei forti squilibri economici e che produca una divisione profonda in Europa. L'Europa ha bisogno di noi come noi abbiamo bisogno dell'Europa. Secondo la Merkel, l'UE non solo è stata allargata, ma la sua coesione si è anche approfondita grazie ai contrasti che hanno fatto guadagnare fiducia reciproca tra gli Stati membri. C'è la necessità di dare risposte concrete in tempi rapidi all'impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l'emergenza sanitaria e quanto emerso al termine dell'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Governo in vista del Consiglio Europeo. La riunione è stata dedicata al negoziato in corso sulla proposta Recovery Next Generation EU e quadro finanziario pluriennale 21-27. La circolare del Ministero della Salute sulla stagione influenzale 2020-21, firmata dal Direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero Giovanni Rezza, raccomanda alle regioni che, vista l'attuale situazione epidemiologica per la circolazione del SARS-CoV-2, bisogna anticipare le campagne di vaccinazione anti-influenzale a partire dall'inizio di ottobre e offrire la vaccinazione ai soggetti elegibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione. E le regioni devono al più presto fare le gare per l'approvvigionamento dei vaccini, basandole sulle stime effettuate nelle coperture stagionali precedenti. La vaccinazione anti-influenzale sarà gratuita a partire dai 60 anni e non più dai 65 e per i bambini da sei mesi a sei anni. Proporre una riflessione costruttiva sui processi della comunicazione emersi in Italia durante l'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, ricostruendo le strategie messe in campo per rispondere a un'infodemia che si è diffusa con la stessa rapidità della pandemia. Questi gli obiettivi di Zona Rossa, il Covid-19 tra infodemia e comunicazione. Il libro di Lelio Alfonso e Gianluca Comin, edito da Guerini e Associati e con la prefazione di Walter Ricciardi, già disponibile in edizione digitale e da luglio in libreria. Questa infodemia è arrivata da noi purtroppo insieme alla virulenza fortissima del Covid ed ha generato, così come purtroppo ci sono stati lutti e grandi dolori, ha generato anche elementi di confusione e incapacità di cogliere veramente quali fossero i comportamenti da tenere, quale fosse la gravità della situazione. Quello che in questo libro noi proponiamo, Gianluca e io, è proprio quello di analizzare, come se ci trovassimo davvero di fronte anche a una malattia dell'informazione e della comunicazione, un'analisi, una diagnosi, una terapia.